Nessun migrante di Lampedusa deve mettere piede in Francia. È assolutamente necessaria una moratoria totale sull'immigrazione e dobbiamo riprendere il controllo dei nostri confini. Spetta alle nazioni statunitensi decidere chi entra e chi rimangono sul nostro territorio. Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese del National Rassemblement, Ha vissuto questa sera. Vive al Tg di TF1. Coloro che fanno appello all'Unione Europea hanno torto continua Le Pen perché è in vano e pericoloso. Vano perché l'Unione Europea vuole l'immigrazione. Pericolosa perché suggerisce che deleggiamo la decisione sulla politica dell'immigrazione o l'Unione Europea che dobbiamo condurre spetta al popolo francese decidere e dobbiamo rispettare la loro decisione.